Benvenuti a un nuovo video di Sistemi Italiano, oggi per il Digital Divide vedremo come costruire un computer con meno di 100 euro con questo aggeggio qua e questo, sigla Purtroppo sappiamo che molte persone in questo paese, in tutto il mondo ma a noi interessa questo paese perché siamo italiani non possono permettersi un computer quindi immaginiamo tutte quelle persone che ragazzi, bambini, ragazzini o famiglie che hanno comunque persone che vanno a scuola o anche che non vanno a scuola ma che dovendo stare a casa in questo periodo hanno bisogno di un computer e di una connessione internet per poter svolgere le attività quotidiane che altrimenti svolgerebbero uscendo normalmente di casa e questa cosa mi ha molto rattristato perché ci sono case, comprese la mia, dove ci sono anche 4-5 computer e ci sono case dove non ce ne sono di computer magari, spero che siano pochissime anzi, spero che non ci siano proprio in realtà non ci dovrebbero essere perché il diritto all'istruzione è garantito per costituzione e quindi diciamo che essendo ormai una cosa indispensabile come un forno o un frigorifero il computer dovrebbe essere di tutte le case però purtroppo non tutti se lo possono permettere probabilmente quindi ci possono essere delle realtà in cui non sanno cosa fare per risolvere questo problema allora ci viene in aiuto il sistemista italiano e il Raspberry che è questo oggeggio che io vi ho fatto vedere prima della sigla e che adesso andiamo a vedere nello specifico sul sito ufficiale allora dato che questo deve essere un video rivolto a tutti non ai sistemisti ma a tutti anche ai ragazzini o agli anziani e ai genitori che non sanno niente di informatica io salto tutta questa parte qua non la dovete leggere a voi non vi interessa quello che interessa a voi è sapere innanzitutto che cos'è Raspberry Raspberry è un mini computer e dopo ve lo faccio vedere in dettaglio comunque già lo potete guardare in questo sito che ha 4 porte USB una porta di rete per collegarlo a internet con la rete c'è anche la wifi per collegarlo con la wifi poi abbiamo anche un HDMI questo è il modello 4 l'ultimo modello l'HDMI è la micro HDMI quella piccolina e poi c'è anche un'uscita audio per l'audio per le casse lasciate stare tutto il resto perché non vi interessa non è roba vostra la cosa importante è sapere che c'è un lettore di card di SD card le SD card sono queste card qui che vi faccio vedere adesso in realtà questo è un adattatore quindi all'interno c'è la micro SD che è una scheda molto più piccola che questa qua che praticamente conterrà i dati il sistema operativo i dati per far funzionare questo aggeggio e va inserito in un lettore che adesso in questa foto non vedo ma ovviamente è integrato nell'aggeggio stesso nel Raspberry come vedete ci sono tantissimi accessori modelli eccetera però proprio per non perderci in questo mondo e per capire di che cosa abbiamo bisogno io ho deciso di fare questo video per proporvi due soluzioni la soluzione A che sarebbe quella di comprare un Raspberry Pi 4 Spurio Spurio intendo senza nessun accessorio quindi soltanto la piastra che vedete che ho in mano io qui questa piastra qua e poi ovviamente questo per risparmiare quindi comprate soltanto quello che serve questo aggeggio qua poi comprate una schedina SD che vi ho fatto vedere prima poi dovete collegarvi un mouse e una tastiera mouse e tastiera costano in tutto 10-12 euro tutte e due voi vi chiederete sì ma il monitor il monitor il bello di questo aggeggio è che ha l'HDMI e il bello della maggior parte delle case di oggi spero che almeno una TV con HDMI ce l'abbiamo tutti quindi voi potete collegare questo aggeggio questo Raspberry questo minicomputer direttamente alla TV per cui magari rinunciate a una TV in casa oppure rinunciate anche all'unica TV in casa che avete per far studiare vostro figlio e collegate il Raspberry direttamente alla TV l'audio diciamo che non è così fondamentale per le attività che proponiamo in questo video l'audio del computer però volendo vi proporrò anche delle casse che costano veramente poco e che sono agganciabili direttamente al Raspberry e si alimentano direttamente dal Raspberry quindi non dovete neanche avere un'altra spina per cui avete bisogno solo di questo Raspberry della scheda tastiera mouse e ovviamente l'alimentatore il problema qual è che comprando questo modello qui puro com'è non avete niente dovete poi aggiungere tutti gli altri accessori esistono invece dei modelli già pre-costruiti che si chiamano kit che sono simili ad esempio a questo che vediamo qua che ha anche il case e tutto il resto e dopo di che vi manca soltanto tastiera e mouse dimenticavo di dire appunto che il Raspberry Pi 4 è il modello nuovo quindi ha un po' più di memoria è un processore leggermente più veloce e ha anche l'HDMI Mini il Raspberry Pi 3 invece è il modello precedente che è questo qui Model B è quello un po' più nuovo rispetto al Pi 3 e Model B quindi la scelta secondo me può andare o su Raspberry Pi 4 e Model B o su Raspberry Pi 3 e Model B le differenze sono che questo ha meno memoria RAM e ha un processore leggermente più lento allora detto questo se andiamo a vedere il Model B P3 e andiamo a vedere il P4 Model B in realtà io possiedo questo che ha un processore da 1,4 giga per chi non sapesse cosa significa è un processore diciamo medio non è niente di che non è un grosso processore però stiamo parlando di un computer che deve servire solo per navigare su internet scrivere dei documenti e collegarsi magari con la scuola quindi tutti e due i modelli che vi sto proponendo vanno benissimo per questo scopo AS ha anche la wireless quindi non avete bisogno del cavo di rete e andiamo a vedere le specifiche vedete che ha 1 gigabyte di memoria mentre il resto non ve lo faccio vedere perché è inutile che vi spiego cose che a voi non vi interessano il P4 invece è il modello un po' più nuovo è leggermente più veloce ok e lo vendono in modalità appunto di memoria 1 giga 2 giga o 4 giga ovviamente se dovete prendere il 4 conviene prendere quello da 2 giga perché altrimenti se prendete quello da 1 giga siete praticamente quasi uguali al P3 lasciamo stare il processore e il resto anche se il processore è un po' più veloce ma conta anche la RAM quando si lavora col computer quindi per farla breve io in descrizione qui vi metterò 3 link credo metterò 3 link e uno sarà un kit completo del P3 che come vedete costa circa 71 euro e avete tutto vi manca solo tastiere mouse oppure un kit completo del P4 a 2 giga di RAM che costa circa 16-17 euro di più e anche qui avete tutto il case la ventolina perché questo qui scalda un po' di più non vi spaventate perché è facilissimo da montare sono 4 pezzi si mettono uno sopra l'altro e si incastrano e la schedina già precaricata col sistema operativo e anche questo c'ha la sua schedina col sistema operativo precaricato oppure c'è il modello diciamo da 4 giga ma questo costa 92 euro a quel punto io eviterei di esagerare perché a quel punto cominciamo ad aumentare con la spesa poi c'è il modello quello diciamo spoglio c'è soltanto la scheda alla quale ovviamente va aggiunto tutto il resto che vi costa 57 euro io propongo solo prodotti su Amazon non perché per qualche motivo particolare ma perché essendo Prime arrivano prima arrivano subito o perlomeno arrivano abbastanza presto perché in questo periodo Amazon sta facendo un po' di ritardi però diciamo nel giro di 2-3 giorni 4 giorni al massimo dovreste avere dovreste avere tutto ok io ho preparato per voi è stato molto difficile devo dire però ci sono quasi riuscito ho preparato per voi questo schema che chiaramente riepiloga un po' tutto quanto prima vediamo appunto questo schema poi vediamo nello specifico in dettaglio come è fatto il Raspberry e poi faremo proprio la dimostrazione pratica di come si installa il sistema nel caso compriate questo qui fai da te cioè quello senza niente invece in caso compriate uno di questi due modelli avrete sicuramente tutto quanto già pronto dovete solo attaccarlo alla tv o al monitor e accenderlo quindi per chi adesso quando andiamo avanti nel video per chi comprerà uno di questi due potrà saltare un pezzo di video allora io ho preparato quindi uno schema di prezzi per il modello P4 e il modello P3 il P4 vi ricordo il più recente il più veloce ha più memoria e come vedete le differenze di prezzo qui parliamo di 100 euro e 48 qua parliamo di 96 euro e 37 ora provo a zoomare un po' ecco per esempio il modello P4 vabbè c'è una piccola descrizione però come vedete ve lo vendono con tutto quindi cacciavitini per avvitare le viti vi ripeto sono 4 viti non è che dovete fare chissà che la ventolina l'alimentatore la scheda il cavo hdmi e poi c'è anche un lettore di schede questo non vi serve perché se avete diciamo già un computer potete usare quello altrimenti ovviamente vi dovete appoggiare inizialmente se comprate questo o quell'altro kit è già tutto pronto quindi non vi serve un computer chiaramente questo è un video per chi non ha un computer e quindi è chiaro che io sconsiglio questo qua perché anche se risparmiate qualche euro in realtà dovete poi avere un computer per installare il sistema operativo quindi vi dovreste appoggiare a un parente o a un amico per cui il consiglio che vi do io è di usare il kit modello P4 o il kit modello P3 questo costa ho fatto anche qua diciamo una tabella di prezzi lui costa 80 euro solo il kit poi dovete aggiungere mouse e tastiera che costa il mouse 4,99 la tastiera 6,99 e se volete le casse 8 euro quindi come vedete se non prendete le casse già il prezzo vi scende sotto i 100 euro vi va a 92 quindi le casse oppure potete adattare se avete una cassa bluetooth potete anche collegare una cassa bluetooth a lui perché lui ha anche il bluetooth quindi non dovete comprare neanche le casse comunque le casse ripeto servono per la musica e videogiochi generalmente per studiare non è necessario averle inoltre se voi lo collegate alla tv che ha già le sue casse questo dispositivo è in grado di trasferire l'audio anche attraverso l'HDMI quindi in questo caso le casse non vi servono proprio quindi diciamo con meno di 100 euro potete fare già il kit col modello 4 che è il modello più recente se invece volete il modello 3 che è questo qua il modello 3 costa anche con le casse vi costa 96 euro se togliete le casse vi costa addirittura 88 euro quindi il kit che comprende però tutto tranne il cavo HDMI quindi qua ho dovuto aggiungere il cavo che costa 4 euro 90 è ovvio che se avete il cavo e non volete le casse già andate a risparmiare molto di più e spendete solo 83 euro ok quindi veramente siamo sotto i 100 euro mouse e tastiera 4 euro 99 tastiera 6 euro 99 allora è chiaro che tutto questo poi vi serve un monitor allora il consiglio che vi do io è chiaramente come dicevo prima se avete una tv usate quella le tv ormai tutte quante hanno almeno un hdmi ci collegate il raspberry mouse e tastiera alimentatore e avete finito altrimenti io posso proporvi anche un monitor che costa poco l'ho trovato sono riuscito a trovarlo posso proporvi questo monitor qua che costa poco costa circa 65 euro ed è un monitor 18 pollici e quindi dovete aggiungere questi 65 euro quindi diciamo siete intorno ai 150-160 euro per avere un prodotto completo quindi adesso andiamo a vedere nello specifico come è fatto in dettaglio e poi vi faccio vedere come installare il sistema nel caso compriate il modello senza sistema non vi ho fatto vedere questo modello che è quello senza niente qui ovviamente dovete comprare tutti i pezzi perché vi manca tutto anche qua potete togliere il cavo scusatemi il cavo se ce l'avete già le casse se non vi servono però alimentatore e scheda vi dovrebbero servire anche mouse e tastiera però se togliete già cavo e casse risparmiate altri 13 euro e siete intorno di 87-88 euro il problema è che su questo modello qua ci dovete lavorare perché poi sulla scheda bisogna mettere il sistema operativo e quindi avete bisogno o di un altro computer oppure di andare a casa di qualcuno a farvi dare a farvi prestare un computer quindi anche qua potete risparmiare altri 9 euro di alimentatore quindi se togliamo l'alimentatore togliamo il cavo e togliamo le casse se spendete 78 euro e vi resta soltanto il monitor o se avete già la tv non vi serve neanche quello quindi adesso andiamo a vedere nello specifico come è fatto e poi faremo una dimostrazione di installazione per chi compra il kit quello senza niente oppure per chi invece ha già il kit completo vedremo invece il sistema operativo come funziona gli accessori che ci sono sopra ecco questo qua è raspberry questo è il modello pi3 quindi come vedete ha le sue quattro porte usb la scheda di rete fisica o la scheda di rete wireless già inclusa quindi non dovete comprare neanche il cavo di rete qua qui c'è l'hdmi quello normale e poi c'è anche una micro usb per alimentarlo e l'uscita per le casse il resto non vi interessa saperlo comunque vabbè qua c'è il cpu la ram è tutto integrato quindi non dovete aggiungere nient'altro questo è un modello diciamo spoglio senza niente come vedete è il p3 model b versione 2 ora andiamo a vedere invece come si scarica il sistema operativo nel caso compiate questo modello come si crea la schedina e come poi si avvia il tutto allora prendiamo la schedina come vi ho fatto vedere la schedina che va dentro la sberry è questa piccola perché va inserita nel suo lettore di schede che come vedete è qui sotto quindi qui va inserita quella schedina lì ok in questa fessura ecco qui c'è già una inserita come vedete semplicemente dovete inserirla qui dentro qui questo però ovviamente dopo aver fatto il lavoro che adesso vi spiego prendete la schedina e la andate a mettere nel computer ovviamente come vi dicevo all'inizio dovete farvi prestare un computer a qualcuno se invece avete comprato il kit tutti questi passaggi da adesso in poi fino a che non ve lo dirò io li potete saltare una volta inserite la scheda assicuratevi che il computer l'abbia riconosciuta quindi aprite l'esplorio risorse vostro e dovreste vedere in questo pc dovreste vedere oltre ai vostri dischi anche un nuovo disco che windows ha riconosciuto e dovrebbe essere un disco vuoto perché la scheda immagino sia nuova e quindi avrà sicuramente non avrà nulla all'interno eccolo qua nel mio caso è il disco f una volta fatto questo andate su google scrivete raspberry il primo sito che vi si apre lo aprite andate su downloads in alto e come vedete ci sono già all'inizio subito i tre link che vi servono a voi se avete un windows scaricate il primo se avete un macintosh scaricate il secondo se avete un linux scaricate il terzo in questo video vedremo per windows perché la maggior parte di noi se andiamo da un amico per fare questo lavoro è probabile che abbia windows quindi scaricate il raspberry pi major per windows e lui vi scaricherà un file piccolissimo a questo punto il file lo andate ad aprire datelo ok adesso il browser lo potete chiudere vi compare un welcome to raspberry pi major setup dovete soltanto cliccare su installa e poi run questo lo lasciate spuntato cliccate su finish a questo punto lui come vedete interfaccia molto minimale semplicissima la prima cosa da fare qui in choose os cliccate e andate a scegliere raspbian non vi sto a spiegare il resto cos'è perché ripeto questo è un video per principianti e quindi non vi spiego cos'è il consiglio che vi do io è installare raspbian quindi cliccate su raspbian choose sd card dovete cliccare qui e scegliere la vostra sd che lui ve l'ha già riconosciuta è l'unica che c'è in questo computer mi raccomando prima di scegliere assicuratevi che ci sia l'icona usb che ci sia la lettera giusta che l'avete letta nell'explorer risorse di prima che nel mio caso era il disco f se vi ricordate dopodiché e poi l'ultimo dato che vi può aiutare a capire se la scheda è giusta è la dimensione questa è una scheda da 32 però in realtà basta anche una da 16 giga cliccate sulla scheda e poi cliccate su write per cui tre passaggi sistema operativo raspbian choose sd card quella che vi riconosce lui assicurandovi che sia quella giusta e poi write a questo punto fa tutto lui non dovete fare nient'altro dovete soltanto aspettare che finisca questo processo ecco come vedete ha terminato ci ha impiegato circa 7-8 minuti quindi basta cliccare adesso prima di cliccare su continua potete rimuovere la carta dal lettore ed eccola qua l'ho rimossa e dopodiché clicco su continua a questo punto non ci resta che inserire quindi andare a togliere di nuovo la mini card che c'è qui andare a togliere questa mini card inserirla dentro il raspberry quindi vediamo se riesco a farvelo vedere si inserisce così dovete trovare il verso giusto ovviamente a non fare come me quando è entrata tutta quindi il verso dovrebbe essere la parte scritta verso l'esterno vedete ok dopodiché non vi resta che andare a collegare questo alla tv o al monitor con mouse e tastiera e all'alimentatore vediamo che succede ecco quindi andiamo a collegare l'alimentatore al suo jack quindi qui io avevo già il mio alimentatore quindi sto collegando l'alimentatore come vedete e l'ho già acceso poi vado a collegare l'HDMI dopo di che io per evitare di comprare i tastieri mouse e per fare questo video io ho comprato questo prodotto qui che ha tastiere mouse integrati che però richiede un suo dongle ma nel vostro caso avrete tastiere mouse usb quindi non vi servirà dopo di che andiamo a accendere la tv e vediamo che succede come vedete il sistema operativo è partito ha fatto il suo boot e ci dice welcome to raspberry pi desktop before you start using it there are few things to set up please next to get started chiaramente si può mettere anche la lingua italiana quindi andiamo a seguire il setup clicchiamo su next ok come vedete ci chiede di scegliere il country e la lingua e andiamo a scegliere italia lingua mettiamo italiano time zone l'ha già rilevata lui room questi due le lasciamo non spuntate perché abbiamo lingua italiana e la tastiera italiana quindi next adesso sta impostando da solo la data l'ora e tutte le unità di misura italiane quindi setting location significa questo scusate la qualità del video ma questi sono i miei mezzi dopodiché bisogna mettere una password e confermare la password sotto quindi andremo a mettere una password che ci piace dopo ci chiede il desktop should fill the entire screen lui ti dice di fare l'impostazione dello schermo il desktop should fill the entire screen tick the box below if your screen has a black border cioè praticamente se voi avete dei bordi neri intorno allo schermo io non mi sembra di averli potete settare lo schermo cliccando su questa spunta nel mio caso che lo schermo non è cioè che è a posto clicco su next ora sta cercando le reti in questo caso la wifi perché non ho collegato il cavo di rete come vedete ha trovato tutte le wifi di casa mia sceglierò quella più potente che io ne ho tre e vabbè voi ne avrete una sola cliccando su next andiamo a mettere la password andiamo di nuovo su next si sta collegando la wifi e poi chiaramente lui parte con l'aggiornamento del software quindi clicchiamo su next e aspettiamo che faccia tutti gli aggiornamenti necessari tanto diamo un'occhiata al desktop come vedete si presenta un bel desktop pulito in alto ci sono i menu poi andremo a utilizzare a vedere cosa c'è dentro e chiaramente avete già il menu quello dove c'è l'icona raspberry e il menu start sarebbe come fosse windows diciamo quindi poi c'è l'icona di internet l'icona delle cartelle va il terminale che a voi non serve e poi dopo andiamo a esplorarci tutti i menu ecco adesso il sistema operativo si è aggiornato quindi possiamo cliccare su ok e dobbiamo riavviare il raspberry così vediamo anche com'è il primo avvio come vedete è proprio collegato soltanto hdmi e l'alimentazione ci sono altri sistemi come ubuntu che prima avete visto però ve l'ho sconsigliato perché questo sistema è specifico per sberri e non lo rallenta poi chiaramente adesso andiamo a vedere che cosa ci offre questo sistema e andremo a installare almeno un pacchetto office giusto per poter lavorare con word excel per scrivere documenti e fare dei calcoli diamo comunque un'occhiata al menu questo è il menu diciamo di start dove avete appunto già la possibilità di avere un browser programmazione per chi deve programmare poi c'è audio e video c'è un lettore multimediale per vedere dei video un programma di grafica alcuni accessori come una calcolatrice un lettore di pdf e poi c'è anche un piccolo text editor per scrivere piccoli testi quindi già può essere utile partire con questo già avete comunque un mini computer funzionante poi chiaramente come vedete è tutto italiano anche la gestione delle finestre è molto simile a quella di windows quindi non dovreste avere difficoltà per andare su internet è sufficiente aprire il browser qui in alto e come vedete potete navigare tranquillamente su internet potremmo andare su google ecco qua quindi avete la navigazione tranquilla quindi ora vediamo alcune caratteristiche della raspberry quindi alcuni programmi che vedremo qui le preferenze come impostare qualche preferenza e poi come installare il pacchetto office ed ecco qua il desktop come si presenta l'orario in alto a destra è giusto questa è la connessione di rete qui abbiamo l'audio se il volume se avete collegato le casse come abbiamo visto nel menu abbiamo alcune cose qui in programmazione abbiamo diversi programmi per programmare magari per qualche ragazzo che deve programmare istruzione abbiamo smart sim che è un simulatore di circuiti smart questo lo userete poco e come vedete abbiamo già anche libreoffice libreoffice base libreoffice calc libreoffice impress e libreoffice mat quindi abbiamo già i programmi per scrivere e per excel disegnare eccetera eccetera quindi se apriamo libreoffice writer avete già un work processor per scrivere e quindi fare i compiti studiare eccetera eccetera nel caso in cui non ve lo troviate il libreoffice è possibile installarlo molto facilmente basta aprire il terminale che vedete qui come vedete voi siete utente pi quindi fate sudo su per diventare utente amministratore e poi dovete semplicemente digitare apt vediamo se riesco ad allargare questa finestra così si vede meglio apt install libreoffice una volta lanciato questo lui a me me l'ha già me l'ha già impostato me l'ha già installato quindi mi dice che è già installato però voi dovreste vedere una serie di ricche che scorrono finché non non ha finito di installare quando ha finito di installare dovete trovarvelo già qui nel menu di raspberry in ufficio se non ve lo trovate dovete soltanto riavviare raspberry per riavviarlo cliccate su shutdown e fate reboot e aspettate il riavvio e quindi vediamo abbiamo detto il libreoffice poi c'è chiaramente un programma di foglio di calcolo vedete che è assolutamente simile identico a microsoft office excel o word molte aziende pensate usano questo per risparmiare sui costi di licenza di microsoft poi abbiamo visto che ci sono dei giochi in python games ci sono dei giochi che potete lanciare e giocare io non li conosco quindi non saprei aiutarvi però ce ne sono diversi invece andiamo a esplorare le preferenze nelle preferenze abbiamo detto c'è qualcosa ancora in inglese ma questo poco male quindi raspberry pi configuration potete nella localization questi due non vi servono nella localization potete cambiare se l'ora è sbagliata potete cambiare il vostro time zone quindi mettere il paese in cui vi trovate la tastiera se non è italiana la potete mettere qui e cambiarla questi due vi ho detto di non usarli perché chiaramente sono più per utenti avanzati però diciamo è possibile fare l'autologin cioè non dovete mettere la password quando avviate il computerino e se volete abilitare o meno lo splash screen che sarebbe l'icona che compare all'inizio durante l'avvio qui potete cambiare il nome del computer vabbè io qui ho messo sbox se voi potete mettere quello che volete vediamo cos'altro possiamo trovare nel menu per personalizzare il proprio computer per esempio screen configuration vediamo qua se proviamo a mettere visualizza questa è la proporzione però su screens virtual risoluzione possiamo cambiare la risoluzione dello schermo se è troppo stretto e troppo ingrandito il carattere possiamo certamente cambiare anche lo sfondo quindi tasto destro sulla scrivania vediamo cosa possiamo fare preferenze della scrivania questo sì sono vari sfondi che possiamo mettere eccoli qua il colore se vogliamo solo un colore a tinta unita non un'immagine se dobbiamo visualizzare o meno la cartella documenti io consiglio di visualizzarla poi la larghezza del menu in alto eccolo large small o medium ognuno se lo mette come più gli piace il colore e il tipo di font il cursore del mouse se deve essere più grande o più piccolo questo però vedo che richiede un riavvio e poi altre impostazioni per lo schermo io non ho applicato e quindi è tornato tutto come prima se andiamo su tastiera e mouse possiamo regolare la velocità del mouse e del doppio clic anche la tastiera attesa ripetizione quando teniamo premuto un tasto quanto tempo deve aver premuto prima che lui ripeta la lettera poi vediamo un po' se ci può essere qualcos'altro di interessante apparenze settings questo l'abbiamo visto prima referenze sempre quindi audio device questo è per la scheda audio raspberry p configuration l'abbiamo visto prima quindi come vedete voi nelle preferenze potete settare alcune cose del vostro mini computer il vostro raspberry aggiungere il rimone software cambiare lo sfondo cambiare le impostazioni dello schermo e della tastiera del mouse qua avete tutta la guida in linea la guida di debian l'help il get start quindi se andiamo su help sicuramente si aprirà una guida che va su internet immagino che non ci sia in italiano però questa è la guida del raspberry invece se andiamo sulla guida debian qui abbiamo la guida di come si utilizza debian possiamo andare in html multi file e qui abbiamo tutta la guida di come si utilizza il sistema operativo però diciamo è molto simile a windows quindi non credo che ne abbiate bisogno poi abbiamo negli accessori abbiamo visto tutto il file manager l'abbiamo visto ovviamente il file manager funziona come quello di windows quindi una volta che avete aperto la finestra del file manager potete navigare nelle cartelle creare nuovi file file vuoti per esempio potete quindi poi trascinare sul desktop se volete salvarlo sul desktop per cancellare chiaramente tasto destro possiamo spostare nel cestino e poi chiaramente possiamo svuotare anche il cestino si possono aggiungere o rimuovere elementi nel pannello vediamo nelle settings possiamo mostrare o meno i suggerimenti solo le icone invece che il testo e le icone i pulsanti se li voglio piatti oppure no la spaziatura la larghezza massima l'ingrandimento delle piccole icone di task insomma è tutto personalizzabile facilmente col mouse gli accessori andiamo a vedere nelle preferenze c'è anche Adremo software come potete vedere ci sono molti software che potete installare però quello che vi consiglio io è di utilizzare invece il menu quello più facilitato che è sempre in preferenze andare su recommended software e qui avete per esempio da qui è possibile installare come vi dicevo anche LibreOffice nel caso in cui non lo trovate installato quindi cliccate su install e cliccate su ok poi qua ci sono altri programmi di education di programming e anche se andate su all programs vedete tutti gli altri programmi vedo che manca un programma di grafica quindi proveremo a installarlo sempre con il terminale perché è la via più veloce quindi facciamo di nuovo sudo su e quello che vi propongo io è installare Gimp quindi fare apt install Gimp come vedete lui vi propone già una serie di cose voi ignorate tutto cliccate su sì e aspettate la fine dell'installazione era possibile provare a installarlo anche da qua però ho visto che alcune volte è più complicato perché andando su se andate su other mode software e scrivete Gimp in realtà qui ci sta la possibilità di farlo però dovevate selezionare sia questo che quest'altro quindi poteva essere un po' più complicato invece con la linea di comando che vi ho fatto vedere io vedete poi ci sono anche altre dipendenze da installare con la linea di comando che vi ho fatto vedere io è molto più semplice una volta installato dovrebbe comparire nel menu di grafica quindi andate qua eccolo qua new image panel operation program e avete Gimp pronto per essere utilizzato come vedete è tutto molto veloce si apre in maniera molto veloce qui potete manipolare o creare nuove immagini nuove immagini potete disegnare quindi può andare bene anche per i bambini se vogliono disegnare oppure se dovete proprio manipolare delle foto e fare però scegliamo un colore ecco qua potete anche aprire delle foto e manipolarle se siete in grado di manipolarle oppure aggiungere delle scritte come volete voi poi chiaramente potete salvare stampare e fare tutto quello che vi serve ok io direi che per quanto riguarda diciamo questo video abbiamo concluso perché abbiamo visto tutte le fasi dall'inizio l'acquisto fino all'installazione del sistema e l'utilizzo base del sistema come andare su internet vedete c'è anche un programma per le mail però diciamo le mail generalmente si usa gmail oppure comunque le mail via internet per cui è più facile e quindi niente ecco qua avete visto appunto come fare questo setup di questo mini computer disponibile con pochissimi euro siamo sotto 100 euro e quindi avete già la possibilità a casa di lavorare con un semplice computer però per andare su internet studiare scrivere dei documenti va più che bene l'ultima cosa che vi devo dire è chiaramente se volete stampare dovete anche aggiungere una stampante ma quello è meno comune ormai perché si tende a stampare sempre di meno comunque anche là la stampante si aggiunge col cavo usb viene riconosciuta in automatico quindi potete stampare tranquillamente detto questo andiamo alla conclusione ecco abbiamo visto come acquistare questo Raspberry vi metterò tutti i link di acquisto in descrizione mi raccomando tutti su Amazon quindi avete tutto diciamo l'elenco delle cose da comprare che vi ho spiegato avete i link di acquisto sotto in descrizione e potete scegliere ripeto la versione quella kit P4 o il kit col P3 è un po' più lento però la differenza di prezzo avete visto è minima però intorno ai 100 euro voi avete un computer completamente funzionante in casa vi ho spiegato cosa comprare come installare come installare il sistema se non lo trovate già installato perché probabilmente lo troverete già installato una piccola nota i kit arrivano con il sistema preinstallato cioè quando lo accendete dovete scegliere se volete Ubuntu o Raspbian ora vi faccio vedere cosa intendo in pratica vi trovate appena lo avviate una schermata del genere e quindi dovete soltanto scegliere Raspbian qui in alto invece di Ubuntu o di altri sistemi che vedete qua una volta che avete scelto quello andate avanti e il resto è identico a quello che abbiamo visto nel video spero che il video vi sia stato utile che di aver contribuito a questa causa di appunto consentire a chiunque di avere un computer vi ringrazio per aver seguito il video mi raccomando questo condividetelo perché è importante quindi condividete il video mettete un mi piace se vi è piaciuto commentate se avete delle domande mandatemi un email se avete delle domande a sistemistitaliano chiocciolagmail.com io sono a disposizione di chiunque abbia difficoltà in questo campo a acquistare o a installare questo minicomputer quindi auguro a tutte le famiglie di aver risolto perlomeno una parte dei problemi perché ne abbiamo tanti e spero di averne risolto almeno una parte e vi ringrazio e vi ricordo che senza sistemisti l'informatica non funziona al prossimo video